Nelle puntate americane di Beautiful degli ultimi mesi, Bill Spencer ha rappresentato il principale ostacolo alla felicità di Steffi e Liam. Se non fosse stato per gli intrighi e le costanti insistenze del magnate, la coppia non sarebbe rimasta separata per così tanto tempo, e probabilmente Liam non avrebbe mai trascorso con Hope la prima notte di passione, in seguito alla quale lei è rimasta incinta. Da quando la Forrester ha preso la decisione di lasciare l'ex marito, stanca di essere costantemente messa in secondo piano da lui, il ruolo di Bill Spencer in questa storyline ha cominciato ad assumere dei risvolti marginali. Il triangolo Steffi, Liam, Bill è stato accantonato e al suo posto è diventata centrale la rivalità tra Steffi e Hope. Per il ricco editore, quindi è arrivato il momento di guardare altrove, o meglio, di fare un clamoroso passo indietro.Beautiful Anticipazioni americane La mossa di Bill Combrook è archiviate le trame di Beautiful relative a Steffi e a Eneo sposi Hope e Liam. Le puntate americane concedono ampio spazio ad un'altra storyline che difficilmente resterà priva di conseguenze. .Katy, dopo essere venuta a conoscenza degli ultimi viscidiatti dell'ex marito, ha espresso le sue perplessità riguardo il suo ruolo di padre come può crescere al meglio Will, se ha fatto soffrire così tanto Liam. Supportata dal fidanzato Thorne, la mora Logan ha quindi deciso di chiedere la custodia esclusiva del figlio, dando vita ad una vera battaglia legale, video. Ne è nato un durissimo scontro nel quale i diversi membri della famiglia hanno preso posizioni diverse se rigia espresso il suo benestare nei confronti del fidanzamento di Thorne con Katie e della mossa di quest'ultima contro Bill. Brooke ancora una volta si è schierata dalla parte contraria rispetto al marito.A suo avviso, infatti, lo Spencer non merita di essere escluso dalla vita del figlio più piccolo tale punto di vista la portata a riavvicinarsi all'ex marito, che ha trovato in Brooke la spalla perfetta su cui piangere. Proprio per questo motivo, tale legame sarà destinato a risaldarsi nel corso dei prossimi episodi. Gli spoiler americani segnalano che Bill e Brooke stringeranno un patto e tutto fa pensare che a farne le spese sarà proprio Katie. Nella già difficile battaglia legale per l'affidamento di Will.Tram e Beautiful nuove tensioni tra i bid permessi abbiamo sentito Bill Spencer tessere le lodi di Steph, definita la donna della sua vita. Improvvisamente, nelle prossime puntate americane di Beautiful, questo amore verrà definito un'infatuazione momentanea e il magnate arriverà a dichiarare che nessuno lo ha mai capito come Brooke. Sarà Justin ad ascoltare la confessione dell'amico, sempre più convinto che il matrimonio della Logan con Reed non abbia vita lunga. In effetti, la situazione della coppia si farà sempre più critica e i due coniugi Forrester avranno posizioni sempre più contrastanti riguardo le rispettive figlie, finendo per litigare spesso, soprattutto dopo la scelta dello stilista di finanziare la linea di intimo voluta da Steffi a discapito della Home for the Future. . Bill Spencer troverà terreno fertile in questa crisi e sembra che molto presto anche Reed si troverà a fare i conti con un amore del passato. .